ciao a tutti buonasera pino e buonasera carissima raffaella telespettatori siete veramente fantastici io vi ringrazio e ovviamente saluto anche voi sono delle settimane intense proprio stamattina abbiamo fatto le audizioni del mio musical nell'ordine dei chirici regolari teatini a roma una mattinata fantastica stupenda se volete magari vedere qualcosa andate sui social ufficiali di teatinos.org di christian garala music o teatini il musical comunque veramente se mi seguite anche sui canali youtube c'è veramente tanto della giornata di oggi e al tanto altro sarà caricato comunque postato nei prossimi giorni sono stato fantasticamente bene specialmente con maria teresa spina raffaella sellitto francesco ruga giuseppe gara il rettore della basilica padre joe marcus il chierico regolare sebastian lopes ortega il padre miguel cantante musicista dell'ordine dei chirici regolari teatini insieme a charlie mulinari grande mia spalla artistica grande amico grande produttore lui sarà il produttore del mio musical del musical dell'ordine dei chirici regolari teatini per quanto riguarda il 500 500esimo anniversario della dalla fondazione e sono sono emozionatissimo sono emozionatissimo perché veramente c'è tanto bello c'è tanta luce tanti ragazzi tanti bambini tante persone che sono partite dall argentina dal messico dagli stati uniti da tutti l'italia dalla calabria fino ad arrivare in lombardia dalla sicilia ci hanno mandato tanti messaggi io sono veramente entusiasta di questo percorso che stiamo facendo insieme alle persone citate che saluto ringrazio per il lavoro che stamattina hanno fatto ovviamente io mi sto un sfogando visto la giornata bellissima di di oggi ovviamente insieme da non per ultimo per importanza ma perché veramente è come il solito la corona di questa grande bellezza insieme al preposito generale padre salvador rodea gonzalez che ricoregolare che è il preposito generale di della casa generalizia teatina dunque della curia generalizia teatina che si trova a roma in piazza vidoni quindi accanto la basilica di sant'area della valle che mi invito a visitare a livello artistico ma anche a livello spirituale ma veramente per tutto quello che può essere la cornice di una fantastica giornata all'insegna proprio del del bello bello che noi possiamo raggiungere principalmente con la postura una postura che noi suonando non badiamo per nulla e allora facciamo un primo step iniziamo a guardarci allo specchio iniziamo a guardare già le punte delle nostre spalle e vedere l'equilibrio i musicisti ad esempio i fagottisti tendono ad abbassare un po la spalla destra i sassofonisti pure i violinisti hanno dei problemi cervicali o comunque anche posturali del collo e della spalla ci sono i pianisti tendono un attimino ad abbassare le spalle ma ce ne stanno tantissime situazioni che sono tutte dovute ad una postura non controllata non prese in considerazione ci sono artisti come dicevo nella puntata precedente che arrivano a studiare fino a otto ore al giorno vi ho parlato di passeggiate naturalistiche ho parlato di meditazione di respirazione oggi aggiungo qualcosa che forse ho dimenticato ma perché avevo intenzione di parlare di questo iniziamo a tenere d'occhio la postura nella puntata precedente parlavo di attività sportive come può essere la palestra la danza come può essere qualsiasi altra attività bene facciamo in modo che quell'ora ogni due giorni almeno la prendiamo la rubiamo a noi stessi a questa vita mondana e veloce per noi stessi per la nostra salute nel mese scorso ho parlato dell'alimentazione una sana alimentazione bere tanta acqua comunque fare attività sportiva respirazione quant'altro è tutto un insieme affinché non solo noi possiamo stare bene per la vita quotidiana comunque che noi viviamo tra famiglia lavoro amici fratelli eccetera ma deve deve essere presa in considerazione proprio da tutti quei ragazzi che vogliono abbracciare l'arte per fare di essa la loro vita ma in modo giusto quindi iniziamo a guardarci allo specchio e analizziamo già in partenza le spalle facciamo attività fisica cerchiamo di tenerci d'occhio mentre stiamo studiando arriviamo autore bravissimi però non facciamo autore di studio e poi dobbiamo curare altre patologie che scateniamo noi stessi quindi patologie ad esempio sullo stress o magari sull'ansia da prestazione o magari sulla postura perché questi qua lungo andare ovviamente non tenuto in considerazione poi arrivano a scoppiare come delle piccole bombette ovviamente sono sempre tranquillamente superabili però sinceramente invece di superarli non raggiungiamo quel quello step estremo e cerchiamo di fare di noi stessi veramente un'opera d'arte senza andare a toccare magari punti critici che possono rovinare sempre la nostra il nostro essere cioè l'essere opera d'arte ciao a tutti e alla prossima puntata